Ciclismo si chiuderà in Lombardia, il Giro d'Italia Under 23, partenza venerdì a Urbino, arrivo alla Prica in Valtellina. Antonello Marzio. Tre delle otto tappe del Giro d'Italia Under 23, competizione ciclistica in programma, dal 29 agosto al 15 settembre, sono in Lombardia. La sesta è il 3 settembre a Colico, 150 km di saliscendi attorno al lago. La settima il 4, tutta in salita per 130 km dall'Eco al Monte Spluga in provincia di Sondrio e l'ottava tappa, quella più dura, il 5 settembre. 94 km di fatica con partenza e arrivo alla Prica. A Barzio la presentazione delle tappe lombarde con Antonio Rossi, sottosegretario ai grandi eventi sportivi della regione Lombardia. Promuove la più ambita corsa a tappe per i talenti del ciclismo del futuro, l'Agenzia Nazionale del Turismo. Una competizione storica che ha lanciato campioni come Francesco Moser e Marco Pantani. In gara dal 29 di agosto, 176 atleti in rappresentanza di 31 formazioni, 18 italiane, 13 straniere, provenienti da 11 paesi. Secondo gli organizzatori sarà una grande occasione di promozione dei territori, toccati dalla corsa e di rilancio dell'Italia.